lunedì 13 maggio ben trovati e buon inizio di settimana in regia questa mattina lucio felicita come ogni lunedì iniziamo direttamente il nostro spazio informativo con la rassegna stampa dei quotidiani regionali e nazionali in particolare vediamo primo piano e in alto sotto la testata c'è una notizia di cronaca aggredito a picconate molisano vivo per miracolo si parla di quello che è accaduto a milano francesco nero è una delle vittime del ganese cabobo sul caso intanto indaga il colonnello luongo di venafro poi c'è la politica quella regionale quinto assessore mini delega e vertice di maggioranza decisivo il summit nel pomeriggio strada in discesa per vincenzo cotugno intanto sulla vertenza gam va alla prova del 9 via genova protestano gli autisti dell'atm notizia dall'abruzzo vasto ancora cronaca come possiamo vedere prende fuoco un bus di pellegrini tragedia sfiorata in autostrada una curiosità jumper di seppino tenta l'impresa storica e sfida la grotta gigante il 2 giugno in friuli il lancio di david cussanelli vediamo le altre notizie come ogni lunedì c'è tanto sport in particolare iniziamo con la foto notizia che riguarda il campo basso il lupo non guasta la festa del melfi i rosso blu si congedano con un k o in dolore intanto maiella festeggia il gol numero 200 ora inizia la partita societaria sfogo di capone a fine gara la città dice è con me calcio di serie di termoli i playoff si trasformano in un incubo la vispesaro si impone alla carnarsa spazio anche per il campionato regionale di eccellenza arachiri turris la dauna in finale intanto il gambatesa ipoteca la salvezza poi come possiamo vedere ci sono altri riferimenti e calcio minore la promozione la santeliana spegne i sogni del campo di pietra da primo piano molise adesso passiamo al quotidiano della molise anche qui sotto la testata notizia di cronaca è molisano uno dei cinque feriti dal killer africano armato di piccone e spranga ha 50 anni ed è di campo basso vive e lavora a milano e poi sulla destra pullman va a fuoco 54 turisti salvati dall'autista tragedia sfiorata sulla a 14 nel colonnino sulla sinistra nel box esito votazioni ordine dei giornalisti all'interno ci sono le preferenze ieri il primo turno e segnaliamo l'ottima performance del nostro giovanni di tota confermato al primo turno il calcio sconfitti e contenti lega pro per i lupi un k o in dolore a melfi ma la situazione societaria resta difficilissima scrive il quotidiano tanto c'è amarezza per il termoli passa la vis pesaro siamo nel calcio di serie di molte le occasioni sciupate in eccellenza col paccio della gioventù da una turist sconfitta intanto festeggia il gamba tesa la turist fuori dai playoff la gioventù da una trova il fornelli in finale nel calcio di promozione la santeliana in finale playoff intanto retrocede il rocca vivara il real si giocherà il play out contro una tra ripa e biferno dal quotidiano alla pagina regionale del tempo giù le mani dalle case popolari siamo a campo basso il comune vuole venderle per fare cassa ma 217 famiglie sono in lista d'attesa e arrivano le critiche del pd bisogna assegnarle dicono a chi ne ha veramente bisogno da venafro invece nel colonino sulla destra lavori fermi al castello comune citato per danni vediamo anche le altre notizie siamo torniamo a campo basso amnesty raccoglie 144 firme per i discendenti del giaguaro è in basso convocato il tavolo di crisi sulla gamma a roma si discuterà del di rilancio della filiera vicola e di ammortizzatori sociali ora sulla pagina regionale del sannio fiamme sull'autobus pellegrini in salvo tanta paura ieri mattina sull'autostrada a 14 nessun ferito tra i 54 anziani il pullman era diretto a san giovanni rotondo poi un guasto e l'autista ha fatto scendere tutti da campo basso notizie di cronaca vandalismo controlli a tappeto da parte delle forze dell'ordine tutto questo dopo il caso delle 20 auto danneggiate anche qui la politica poi vediamo il calcio per la politica la campagna elettorale di isernia da pollonio garantire i presidi di polizia il candidato di centrodestra interviene sul tema della sicurezza il calcio il campo basso chiude con una sconfitta i lucani del melfi festeggiano la salvezza dopo circa tre mesi di imbattibilità il rosso blu di vullo perdono due a uno comunque l'obiettivo già centrato qualche altra notizia c'è un'iniziativa che segnaliamo a campo basso leggere una cosa da bambini da oggi fino al 23 maggio appuntamento al polo bibliotecario albino percorso didattico per gli alunni infine al via il sistema turismo locale accordo tra 30 comuni molisani altissimo molise e valle del volturno mainarde parla anche monaco e dice un'opportunità da non perdere insieme per promuovere il territorio abbiamo concluso con i quotidiani regionali adesso passiamo ai nazionali qui i temi della politica in primo piano letta basta o il governo rischia rischia il vertice nella bazia duro confronto tra premier e alfano tensione sulla manifestazione di brescia poi la scelta niente ministri ai comizi e in televisione c'è anche questa bella foto i festeggiamenti di ieri di alonso il gran premio di spagna ferrari alonso la vittoria perfetta torniamo ancora ad altri temi siamo a centro pagina l'ipotesi di saccomanni sospendere il limu anche per le imprese poi di forma generale delle tasse sulla casa andiamo a vedere repubblica stop a ministri in piazza e tv letta inaccettabile il comizio di brescia il colle al pdl rispettate i giudici la prima decisione del governo in conclave silenzio fino alle amministrative intanto una commissione dell'esecutivo preparerà le riforme le altre notizie lavoro ai giovani pressing sull'unione europea il piano del governo investimenti per l'occupazione fuori dal deficit intanto oggi saccomanni all'euro gruppo messaggero letta alfano scontro sul governo il premier al ritiro nel senese dice inaccettabile il comizio anti pm non va avanti a tutti i costi poi la mediazione stop ai ministri in piazza o in tv fino al voto ira del pdl cioè il gelo del colle a centro pagina tassa sulle sigarette elettroniche per i debiti dello stato la misura può entrare subito nel decreto sul pagamento dei crediti delle imprese dalla messaggero alla prima pagina della stampa letta basta ministri in piazza vedete un po la stessa apertura un po per tutti i quotidiani sui quali si parla del duro confronto con alfano inaccettabili fatti di brescia tenuta del governo a rischio il quidinale chiede rispetto per le toghe oggi intanto la requisita oria della boccassini sul caso rubi vediamo anche questa foto il capolavoro di alonso nella sua spagna trionfo ferrari a montmelò massa terzo dietro raikkonen intanto per la serie a il torino centra la salvezza giustamente i riferimenti della stampa quotidiana torinese al toro il tempo il solito grillo spalleggia i contestatori di brescia dopo l'attacco al cavaliere il comico dice in piazza c'era la meglio gioventù il pdl replica parlando di vergogna letta intanto i fatti sotto quel palco sono inaccettabili altra notizia vedete papa francesco benedice la marcia dice la vita è sacra e va difesa in 40.000 ieri alla manifestazione lungo giro del papa in auto vediamo anche qualche altra notizia fino alle elezioni stop ai ministri in tv e comizi e anche qui arriva la tassa sulle sigarette elettroniche uno sguardo al giornale le sette bugie su rubi persecuzione giudiziaria scrive sellusti nel titolo dagli interrogatori mancati alle vittime che non ci sono tutte le incongruenze di un processo che non sta in piedi la boldrini intanto solidale con le donne del pdl aggredite ma solo per finta aggiunge il giornale letta alfano lite in ritiro stop ai ministri in piazza in tv poi asilo politico ultimo trucco dei clandestini resta grave una delle vittime del picconatore e lo ius soli rischia di diventare una minaccia per l'identità italiana aggiunge il giornale ora siamo sul sole 24 ore lavoro ricetta francese per i giovani vediamo un po tra le ipotesi all'attenzione del governo alcune delle soluzioni adottate nei principali paesi europei sul credito d'imposta e patto intergenerazionale piace il modello parigi qualche altra notizia i nodi dell'imu sul tavolo del governo in settimana il via libera al decreto legge sul rinvio dei pagamenti per la prima casa in attesa del riordino complessivo dagli immobili in affitto all'agricoltura i quattro dossier per rivedere l'imposta ed ora siamo sulla gazzetta dello sport vedete lo spazio dedicato all'automobilismo alonso olé fantastica ferrari a momelo fernando domina la gara raikkonen secondo massa terzo lo spagnolo ora è terzo nel mondiale a 17 punti da fettel questa rossa dice è da titolo poi c'è il calcio e ci sono anche dei fatti notizie di cronaca legate al milan la viola ti vede il terzo posto champions si decide tutto domenica intanto pari del milan 0 a 0 con la roma stop al 97esimo per i cori razzisti bu a balottelli la fiorentina intanto è a due punti il giro d'italia comanda nibali wiggins soffre e isedal a picco e dunque queste le notizie di oggi sui quotidiani regionali e su quelli nazionali come ogni lunedì comunque adesso è il momento di dare lo spazio dare la linea alla nostra redazione sportiva per gli air rights 34esima e l'ultima giornata di campionato nella seconda divisione girone b della lega pro questi risultati avversa normanna aprilia 1 a 5 chiti arzanese 1 a 1 fondi interreggio 2 a 4 gavorrano ponte d'era 4 a 1 martina borgo bugiano 2 a 2 melfi campobasso 2 a 1 poggi bonzi foligno 2 a 1 teramo salernitana 4 a 1 vigor lamezza l'aquila 0 a 0 la classifica vede promossa in prima divisione a quota 70 la salernitana 62 il ponte d'era vanno ai playoff con 57 punti l'aprilia 55 il chieti 54 l'aquila 53 il teramo anche il foggi bonzi a 53 punti ma in questo caso si vedono gli scontri diretti gli accoppiamenti sono aprilia teramo e chieti l'aquila matematicamente salve a 45 il melfi 44 borgo bugiano arzanese campobasso 43 martina a 42 punti ci sono vigor lamezza e l'interreggio in questo caso l'interreggio va ai play out e si affronterà con il gavorrano che ha 41 punti retrocesse invece in serie di foligno sempre con 41 punti e 15 punti per fondi ed avversa normanna il campobasso chiude la stagione con una sconfitta i lucani del melfi vincono 2 a 1 al 24esimo maiella porta in vantaggio il campobasso e mette a segno anche il suo gol numero 200 in carriera 36esimo cross d'improta su arino impatta per il melfi 1 a 1 il risultato al termine dei primi 45 minuti nella ripresa al 21esimo in prota sigilla il risultato sul 2 a 1 in favore del melfi minuto numero 20 la vispesaro trova il vantaggio e torelli che imposta l'azione chiede e tiene il triangolo con cremone con il sinistro sull'uscita di imbimbo va a realizzare il gol del vantaggio della vispesaro gioiellino importante questo torelli e gol contro la formazione del termoli dopo il triangolo ben chiuso con cremone il pareggio del termoli arriva al minuto numero 24 l'angolo e 10 anni la testa vincente è di d'angelo che sia cartoccia e fasecco l'esterefatto foiera per il gol del pareggio del termoli al minuto numero 24 della prima frazione di gioco ancora un gol importante per d'angelo alla fine però non risulterà importante questo gol del centrocampista di lanciano il gol vittoria della formazione della vispesaro arriva al minuto numero 26 il cross perfetto dalla destra da parte di bianchi buco della riguardia termolese e piattone vincente di bugaro che fa secco in bimbo per il gol che regala la vispesaro la finalissima playoff del girone contro la maceratese la gioventù calcio da una sovverte i pronostici e batte 4 a 3 la turris al 20.000 riesce così ad accedere alla finalissima la compagine pugliese i gol al 25esimo vantaggio ospite da corner di troisi arriva l'inserimento di pompetti che fa 1 a 0 il pareggio arriva al secondo della ripresa con un calcio di rigore perfettamente realizzato da bernardi al 29esimo del secondo tempo è sempre bernardi ad illuminare per monaco di monaco sinistro incrociato e 2 a 1 turris il pareggio dei dauni arriva al trentanovesimo assist di ferrandino per la testa di recchia che supera delfino si va ai tempi supplementari al settimo del primo tempo ferrandino l'ex di turno calcia delfino non la tiene e scippo realizza il 3 a 2 al decimo sempre del primo tempo supplementare costantino a ristabilire la parità per la turris con un sinistro perfetto il gol vittoria arriva al 120esimo cross di pipoli testa di scippo in porta c'è monaco di monaco per l'espulsione di delfino gioventù calcio d'auna in paradiso il gambatesa batte la virtus matesina negli spareggi di andata play out 2 a 0 il primo gol arriva al trentasettesimo con il passaggio di bruno per toskes che si gira inquadrando lo specchio della porta per l'uno a zero il raddoppio arriva al diciassettesimo della ripresa con toskes per damore che vede l'inserimento di pedegrino che riceve palla e va a realizzare il 2 a 0 definitivo per il gambatesa bene adesso è veramente tutto grazie per averci sentito vi auguro una buona giornata vi ricordo alle 14 il telegiornale con tutte le ultime notizie arrivederci